Se quando uscirà il video su YouTube deve essere il video più visto di sempre Deve essere il video più visto di sempre, dovete sfammarlo a tutto il mondo A tutte le persone che conoscete Avevo ragione io, avevamo ragione noi, punto, punto Non c'è un se, non c'è un ma, avevamo ragione noi, noi, dal minuto uno Ora ragazzi leviamo il cappellino e andiamo, e andiamo ragazzi a parlare ufficialmente di League of Legends Mi hanno detto che c'è un video di Lapo che parla del futuro di League E io sono pronto a guardarlo, è da un po' che non guardo Lapo, mi aspetto un cambiamento da parte sua Mi aspetto un qualcosa di nuovo Lapo non respiro, non respiro, non respiro Gli ultimi due anni di League of Legends sono stati pesanti Il gioco è rimasto praticamente immobile per due stagioni a causa degli scarsi cambiamenti inseriti nel gioco Ma le nostre donazioni finiscono davvero in beneficenza E io lo impazzino un po', non posso guardare lì, non posso, 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 non posso farlo, non posso, non posso farlo, non posso, non posso farlo, non posso È incredibile, è incredibile, è incredibile, è incredibile, è incredibile, mi copia anche il modo di vestire, non solo copia le robe che dico io Mi copia lo stile, alza lui, è già al massimo, mi copia lo stile, fatti crescere i baffi già che ci sei, fatti crescere i baffi No, non è vero, il mio stile è incredibile Siamo pronti rottori, let's go Gli ultimi due anni di League of Legends sono stati pesanti Guidaci, guidaci Il gioco è rimasto praticamente Ma guardate lo zooming sulla faccia, guardate il video editing Pesanti Il gioco è rimasto praticamente immobile per due stagioni a causa Tre degli scarsi cambiamenti inseriti nel gioco Ah no, ha cambiato, ha detto due, l'Apple sei in chat, ti prego Il nostro investimento produttivo da parte di Riot Games A livello di contenuti generali e lanci, sia il 2022 che il 2023 per League of Legends sono stati molto scarni Al punto che ormai il gioco sembrava in modalità manutenzione minimo necessario Capiamoci, il massimo del contenuto nuovo erano i campioni nuovi Che sono anch'essi calati e sono ridotti in numero totale Dato che stanno cominciando di cambiare An investire di più sui aggiornamenti grafici dei vecchi campioni Tutto questo però ha finalmente cominciato a cambiare a metà del 2023 Con il lancio del primo nuovo vero evento Con il ban del Magister Per League of Legends, l'evento Soul Fighter Con la modalità 2v2v2v2 La modalità Arena Questo è stato Che posso dire aver provato di recente Di aver provato con i miei occhi vedendo un amico giocare E posso dire che fa cagare in una maniera incredibile Fa proprio schifo eh Ho giocato Brand Ho visto il tizio giocare Brand Contro il mondo con 7000 HP col cuore infinito Ho detto mai più Mai più nella mia vita Il primo spiraglio di concretezza che ho visto negli ultimi due anni Spesso sono stato troppo fiducioso sull'operatorio games Perché nei quattro Fermi, fermi, fermi Devo tornare indietro di tanti video Solo quando dico bravi Ma mi fido di Riot Fermi, 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 fermi Fermi, sentite, sentite, fermi Sentite, state fermi State fermi, sentite Bravo, bravi Ma mi fido di Riot Adesso sono stato troppo fiducioso sull'operatore games Avevo ragione ancora Avevo ragione ancora Ancora e ancora Di nuovo avevo ragione Ancora Ancora e ancora Ancora Perché nei quattordici anni che seguo il gioco hanno sempre avuto un'ottima visione sul lungo termine Spesso questa visione, questa percezione che avevo però mi è costata a livello di giudizi espressi Perché per mia incapacità anche Non riuscivo ad esprimere sufficientemente bene come la mia fiducia fosse legata al lungo termine E non al soggetto di discussione del momento E questo spesso veniva frainteso come se mi piacesse ciò che stava succedendo a League of Legends Arena è stata quindi la prima concreta novità sul gioco L'evento è stato un gran successo Al punto che Arena è stata riportata già questo dicembre No, vedete cosa succede qua È League of Legends 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 È proprio Henry Easy, grazie È League of Legends È incredibile È League È League of Legends che mi tira fuori È League of Legends Guarda Sono nell'aldilà Sono tiltato che ribalterei casa La ribalterei Sono nell'aldilà È League che mi fa venire così È League È League of Legends Sembra perché la gente voleva giocarci ancora Ed è una modalità così giocata che Riot sembra aver deciso di renderla permanente Anche se non è ancora confermata al 100% Ma ragazzi La Riot non ha mai fatto un'icona per una modalità a rotazione Mentre invece per Arena l'hanno fatta Io Non ha mai fatto un'icona Riot Due domande me le farei La seconda grossa concreta novità è stato l'annuncio Come cazzo è possibile che abbiano fatto tutti questi soldi Andre Easy grazie del terzo Ecco la domanda E del rework della mappa di League of Legends Che atterrerà sui server per tutti i giocatori il 10 gennaio 2024 Era da tanto tempo che non mi devo una reazione così positiva e curioso da parte della community Per quello che è un nuovo anno di League of Legends Ed è una sensazione che ho vissuto così forte Io vi confermo quello che sta dicendo Sto cercando di rimanere calmo Vi confermo quello che dice l'apo Dopo tre non due anni di nulla incredibile e cosmico Riot ha deciso di togliere tutto quello che hanno fatto in questi tre anni di merda Cioè niente E ricominciare da prima Ovvero i tre anni in cui noi abbiamo flammato Riot perché non stavamo facendo nulla Mi hanno bannato e poi hanno cominciato a fare Levando tutto quello per cui io ho flammato L'unica cosa che è rimasta da cambiare È il sistema delle solo queue Che Che Verrà fixato Nel 2025 Quando Anche secondo il mio punto di vista Uscirà League of Legends 2 Che per assurdo mi ha fatto smettere di giocare a League of Legends Nell'ultimo mese e mezzo Perché voglio giocare su una nuova mappa Con i nuovi cambiamenti E gli oggetti Sono manto grazie del solo Non sulla vecchia E quindi giocare a quella vecchia Quella che c'è sul server live ora Mi dà fastidio Questo rigetto che ho inizialmente Lo associavo a Boh la stanchezza Da tacco streaming mondiali Magari perché ero semplicemente un po' stufo di lol La profezia demonia Io Quando parlo di League Ho sbagliato Zero Zero Non c'è un Ah non è vero Ah questo Hai sbagliato Ho sbagliato zero volte L'ho prese tutte Dall'inizio Alla fine Il punto è che invece Dipendeva dal fatto che Vedevo quei cambiamenti Ed ero tipo Porco 2 Ma io voglio giocare quello Non quello che abbiamo adesso E infatti ogni volta che loggavo su PBE Per testare i cambiamenti E fare dei video per parlarne Mi veniva un po' quel brividino L'emozione A pensare a come cambierà il gioco Nei prossimi mesi Sono d'accordo Di come nasceranno tonnellate di nuovi Meme Strategie competitive Build assurde Che in qualche modo funzionano Fieric sono già pronto a seguire il tuo canale Grande Fieric Il grande Il più grande Dei ranker Il più grande ranker Che Liga Italia Aveva mai visto I momenti in cui tanti sperimenteranno E ci saranno robe fuori di testa E non sono solo queste novità Ad emozionarmi Ma il contesto attorno a queste novità Che spesso viene ignorato Dai giocatori meno attenti Ma catturano l'attenzione Dei fan più sfegatati Che ricercano e studiano ogni dettaglio Una delle prime avvisaglie Che qualcosa di grosso Si stesse muovendo Sono stati i seguenti post Che vi faccio apparire Siamo ora Fatti da Riot Spawn Non lo conoscevo questo Uno dei developer di Riot Che lavora all'extech engine Uno dei developer di Riot Cane spawnato Chissà perché non c'è stato un cazzo Per tre anni Who knows why Per chi non lo sapesse È il motore di gioco Che alimenta League of Legends e TFT Fa notare come Il grosso dell'investimento Dell'ultimo anno e mezzo Si è stato sugli strumenti necessari Per lavorare su League of Legends E per permettere di creare Grossi cambiamenti Con maggiore efficienza Ragazzi Il più grande investimento di Riot Dell'ultimo anno e mezzo È stato qualcosa Che voi non potrete mai vedere Nel secondo commento Parla anche di come sia molto più facile Ora fare contenuti come l'Arena Mod Dai ma andate a cagare Queste robe qua sono paraculate incredibili Queste robe qua sono Sono paraculate Che è una roba È una roba indecente È indecente da leggere Il commento parla anche di come sia molto più facile Ora fare contenuti come l'Arena Mod E i cambiamenti di inizio stagione E un sacco di altri contenuti In via di sviluppo Che non abbiamo ancora visto E aggiunge Che lo sviluppo accelererà ulteriormente Durante il 2024 Già nel 2022 C'erano molteplici menzioni Su come Riot stesse cercando di modernizzare Cerco di calmo Mi calmo un attimo Ragazzi mi calmo un attimo Andiamo a sentire Non voglio fermare il video È probabile che si romperanno facilmente Che dovrai sostituirli spesso O che non riusciranno a fare certi lavori più elaborati Ma se usi un po' di tempo Per avere strumenti in metallo Più complesso Poi potrai fare lavori Che prima consumavano un sacco di tempo In maniera rapida e efficiente Ho anche meglio detto Perché investire su rework grafici di champion di merda Quando puoi fare altro? Il riassunto di quello che sta dicendo l'apo Bene Comentando la precisione E migliorando la qualità generale Questo è il riassunto Questo è ciò che ne è stato di molto Del lavoro dei developer di League of Legends Nell'ultimo anno e mezzo O almeno così dicono Bravo 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 In francese Bravo Muy bravo Bravo l'apo in chat Bravo l'apo È qualcosa che hanno menzionato anche vagamente In vari del blog Dove hanno parlato di League E del futuro a lungo termine del gioco Ma che Detta sincero Spesso abbiamo anche scartato E un po' ignorato Sapete Come le solite chiacchiere Che fa Riot Per creare AI Per tenerci un po' appesi sul filo Mentre stavamo attendendo qualcosa di concreto E non succedeva ormai da tempo in memore Fino ad ora quindi abbiamo avuto Che è quello che ho detto io In ultimi tre anni Un primo passo Con la modalità arena Confermo Un secondo passo Con la season 14 Quindi Primo passo Ok Qualcosa Ma è da un po' che non fate qualcosa qui Io ragazzi Quando devo andare contro Riot Ci vado Sempre Perché Quando fanno robe buone Le dico Sempre detto tutto Riot Da quando mi ha bannato Non so se c'entra qualcosa Ha iniziato a lavorare E ha fatto tutte le modifiche Che io dicevo Quasi come se Se le fossero scritte tutte No? Tutte Proprio Tutte le cose Tutte Modifica la mappa Tutte le troiate Tutte le troiate Le hanno fatte Dal ban La qualità è aumentata In modo incredibile L'unica cosa Che fa cagare È la solo Q Che secondo me Ormai non è più fixabile Ho visto che stanno lavorando Ha un modo per sistemare Gli smartphone Roba che dicevo Ragazzi Potrebbe esserci qualcosa Di umano La ro I mondiali L'editing del video Dei mondiali Non vogliamo parlare Sto zi Guarda non voglio Applaudito Quelle robe Le ho applaudite Quindi non basta Secondo passo La season 14 Ok Ok Già qualcosa di più concreto Ora però La domanda fondamentale è Qual è la direzione Per il 2024 E oltre Ciao Busto Grazie a te C'è stata un'uscita Da parte del game director Di League of Legends Pugliu Ve lo ricordate Pugliu Che l'altro giorno Mi ha fatto Non dico impazzire Perché Praticamente Questo video L'avevo già registrato E scritto In una maniera Totalmente diversa Ho dovuto riscriverlo E riregistrarlo Perché erano Praticamente Fantateorie E vagheggiare Complotti Come mio solito Ma con questo intervento Forse Non lo voglio più Proporre Come teoria Ma l'hanno graffiato Nella mano Mio solito Ma con questo intervento Forse Non lo voglio più Proporre Come teoria folle E anzi Voglio proporlo Come teoria Forse concreta Più che altro Perché ho anche avuto La chance Di parlare con Pugliu Durante il A me sta venendo il poglio Però a vedere Sta Foto Comicon di Napoli E ha parlato Della filosofia Con cui sta guidando E evolvendo I vari team Che si occupano Di League of Legends Di quale voglia Che sia l'impronta Del gioco Sotto la sua direzione E molti dei concetti Che ha condiviso Nelle chiacchierate Faccia a faccia Sono ricondivisi In questo post Ma in maniera Un pochino più astratta Molte frasi Suoneranno vaghe Da lette Ma sono parte Di un ragionamento Più legato A lungo termine Che Non è graffio È un accenno Di stigma A te E la pomessia Non respiro Non posso più Incazzarmi Come prima Ragazzi Non dovevo farlo E ha un senso Se hai avuto occasione Di parlarci Andiamo a leggere il tweet Ho servito come Game Director Di League of Legends Negli ultimi Quindici mesi E voglio fare una riflessione Sulla strada Davanti a noi Dovremo inseguire Sogni leggendari Piuttosto che Perfezionare Ciò che conosciamo Qualcuno mi sa tradurre Questa frase Sta frase vuol dire Al posto di reworkare I campioni È meglio fare Qualcosa di nuovo Questa è la frase Questa è la frase Questa è la frase È questa la frase È questa È questa la frase Al posto Vabbè Va bene Va bene È questa la frase Giusto È questa Al posto di lavorare Su un votore grafico Di merda Meglio investire un anno Per fare un cazzo Di roba nuova Giusto? Ok Io l'ho detto Favorire il cambiamento E non l'inerzia Favorire il viaggio E non la destinazione Qui in pratica Parla di come spesso In Riot Si sono più fermati Che mossi davanti Col gioco E di come Pugliu eroi in chat Pugliu eroi in chat Per favore Cazzo Fate i devlog Dove dietro C'è la sala Riot Che è vuota Ne avete fatti 20 Parlo direttamente Con Riot Lapo Ne avete Avete fatto Lapo Avete fatto 20 Riot Dev Lì E non c'era nessuno Lavorare dietro C'è chiaro Gara Fermi Non hanno più Alcune esperienze incredibili A qualche anno A questa parte Ormai Di come questa staticità Ci abbia lasciati spesso Senza divertimento Senza cambiamento E che Questo viaggio Per arrivare a qualcosa Di grosso Sia stato piatto E anzi Ha allontanato Anche dei player No Non è vero È la tossicità Che ha allontanato I player C'è uno screen Che ne parla Fermi È la tossicità Della community Che scoraggia Le nuove persone Aspetta Com'è che era Non mi ricordo Ora Ora hai Riot Che dice Che è colpa loro Fermi Fermi ragazzi Com'è sta roba Fermi ragazzi Com'è sta roba Dov'è Fantazuzu Fantazuzu C'è Riot Che ammette Che è colpa loro Fermi Fermi Trochi Grazie del sub Fermi Riot Dice Che è colpa loro Qualcosa di grosso Sia stato piatto E anzi Ha allontanato Anche dei player Spesso hanno sfavorito Progetti Che sarebbero stati divertenti Soltanto perché Non erano giusti Fermi signori Fermi Incredibile La lettera di scusa Di pull laser Al gister Incredibile Continuiamo il tweet I nostri player Sono molto diversi Gli uni dagli altri E continuano ad aumentare Ogni anno Come Perché siamo diversi Fermi C'è del Cosa sta cercando di dire Pull laser Che ogni persona è diversa Io qua ragazzi Voglio lanciare un messaggio Che va al contrario Di questa roba qua Che ha detto pull laser Ragazzi Siamo tutti uguali Non c'è un diverso Siamo tutti un unico popolo Un'unica community Qua per favore Voglio un applauso Per questo mio Per questo mio messaggio Qua probabilmente Si è espresso male pull laser Ragazzi Siamo tutti Assolutamente uguali Non c'è un diverso Non importa quanto qualcuno sia forte O frustrato Essere sorpresi intrattenuti È qualcosa che viene Universalmente apprezzato I piani nel presente Sono rumore Senza una visione Una visione non può essere realizzata Senza trovare successo nel presente Qui parla di come ci sia Una forte volontà Di accontentare tutti E con 180 milioni di player globali È complicato E ognuno vuole cose Completamente diverse Accontentare tutti Eccolo qua L'aggiunta dello Smeraldo Per esempio L'aggiunta dello Smeraldo Appena parlato Labo Accontentare tutti Hanno aggiunto un elo E hanno alzato l'elo medio di tutti Boom Qui parla di Riot che lo dice ufficialmente È una cosa che ho già detto io Vogliono cercare di accontentare tutti Ma è impossibile Hanno provato di tutto Per accontentare tutti Ma è impossibile Forte volontà di accontentare tutti Quello che dicevo io E con 180 milioni di player globali È complicato E ognuno vuole cose Completamente diverse Rendiamola semplice Ciò che vuole il pubblico occidentale Non è ciò che vuole il pubblico orientale E viceversa Però si rendono conto Del valore di una sorpresa Qui e lì Di qualcosa che ci intrattenga E ci faccia piacere E durante gli ultimi 14 anni Di League of Legends Ce ne sono state Non negli ultimi 3 Però Parla di Erano 2 prima Fermi Si è evoluto È aumentato È aumentato Si è evoluto Mentre Mentre faceva il video Da 2 a 3 All'improvviso 14 anni di League of Legends Ce ne sono state Non negli ultimi 3 Però Parla di sorprese Divertimenti Proprio in funzione Della frase successiva Che parla di come Sia il presente Che il futuro Siano importanti Spesso Riot Ha sacrificato il presente Pensando al futuro Come è stato Per gli ultimi 2 anni Che io dicevo Che dicevano robe Rimandando sempre in là Sono stati vuoti E senza contenuto Nel presente Ma ha anche sacrificato Il futuro Pensando al presente Basta pensare Agli anni antecedenti Quelli dove c'era La modalità gioco Riot Siete bravi a parlare Ma con i pugni Guarda Guarda che sto impazzendo Sono state prodotte Però senza pensare A come ridurre Guarda che impazzisco Facciamo un esempio La modalità PV Come Star Guardian O Odyssey Sono state fantastiche Ci hanno intrattenuto Un stacco Nel breve termine Ma non avevano creato Degli strumenti Per rifarle facilmente In futuro Aspetta Qual era la modalità Di Kane C'era una modalità Strafiga E Odyssey Ma anche quella Che devi ucare Con i trash Dentro il cerchio Al centro Montaglio Mi sa che era figa C'era C'erano robe fighe In effetti sì Ragazzi Tutto quello Stella Oscura Era quella Ragazzi Anche Odyssey Era bella Stella Oscura Non era male Tutto quello Scusa Lapo Per il fermato Tutto quello Che ho detto io Lo sta dicendo Riot Sotto forma di Scusa Riportarle Quindi si sono dati Da soli La zappa Sui piedi Mattia Metti sto video Mattia Metti sto video Metti sto video Voglio il titolo La vittoria del Magister Non me ne frega un cazzo Il Magister Aveva ragione Ha sempre avuto ragione Il miglior player Della storia La persona Il VENGENTE L'ORACOLO Questo voglio Nuovo soprannome L'oracolo L'oracolo The Oracle Per una montagna Di tempo Per crearle Rendendole poi Qualcosa di impossibile Da riportare facilmente E quindi vogliono Dare priorità A intrattenerci Nel mentre che sviluppano Il futuro di League of Legends Perché sia il presente Che il futuro Ha valore E importanza Questa è una cosa Su cui è anche commentato Più direttamente Su Reddit Prima che qualcuno pensi Stia interpretando Troppo io personalmente Il tweet continua E continuiamo a leggerlo Anche noi I Rioter ci tengono Molto più Di quello che pensano I player I player ci tengono Molto più Di quanto possiamo Renderci conto Ogni evento A cui partecipo Questa convinzione Hanno capito Che le persone tossiche Tengono al game Anche se tiltano Incredibile Straordinario È incredibile Che anno è ragazzi Me lo dite? Mi dite in che anno siamo? È straordinario Ragazzi I player tossici Tengono al gioco Più Più Incredibile Straordinario È rinforzata I Rioter sono spaventati Dall'idea di dedudere i giocatori Il che è una buona cosa Ma anche una cattiva cosa Rinforzata dai social media Qui tocchiamo una nota Molto dolente E complicata Da discutere Non voglio saltarla Sgranellala Sgranellana Sgranellana Non riesco a parlare Come? Ditemi la parola Devo scriverla Perché mi incarto Sgranè Snocciolala Perché è un problema Aprire mille discorsi E ne aprirebbe tonnellate Sgranella 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 No già faccio Già faccio Claudio Non ho il vocabolo Non voglio saltarla Questa sezione Perché è un problema Vespe Ma perché è un problema Aprire mille discorsi E ne aprirebbe tonnellate Richiederebbe Un botto di tempo Per essere Siamo qua Siamo pronti Però voglio dire almeno La mia opinione Noto sia molta passione Da parte di certi Rioter Che si fanno una sbatta Pazzesca Come è noto Anche me ne freghismo Da parte di altri Rioter Che pensano soltanto A come macinare soldi E ci vedono soltanto Come numeri Ho detto io Mille volte Guarda che se qualcuno Se qualcuno Fa un applauso All'apo Dopo che ha detto questo Io me ne vado Dallo streaming Strano Perché l'ultima volta Era io mi fido di Riot Riot ha avuto ragione Riot questo Riot quello Dopo mesi Va a finire Che avevo ragione io Perché Riot stessa Lo ammette È incredibile È incredibile Sta roba È incredibile È ma mi hanno bannato Per la tossicità No Perché ora Pupu Laser Dice che i player tossici Sono tossici Ma ci tengono al gioco Signori Eccoci qua Avete avuto La vostra Cercavate Cercavate la verità Cercavate la risposta Mi state guardando su YouTube Lo faccio Voglio la priorità più Mattia Questo video Deve la priorità più alta Nella storia di YouTube Avevo ragione io Benvenuti Chi l'avrebbe mai detto Lo stesso discorso però Si può fare anche Per quanto riguarda La passione da parte Da player base Che è bellissimo A vedersi per alcuni frangenti Ma a volte Questa sfocia In comportamenti eccessivi Che distruggono Ogni chance Di poterci confrontare Con Riot E dare dei feedback A modo Continua il tweet Dobbiamo costruire Un piano d'azione Dando priorità A ciò che i nostri Player sentono La logica È secondaria Alle emozioni viscerali Signori Puglio Nel 2024 Cambia il piano Di Riot Games E dice Ragazzi Dobbiamo Fare il gioco Dobbiamo costruire Fare modifiche al gioco In base A quello che vogliono E sentono i giocatori Incredibile Straordinario Il cambiamento Infinito Pensavo Pensavo così a caso In base a quello Che decidevano I developer di Riot Dall'alto del loro Bronzo 4 Pensavo questo Io Incredibile Ragazzi Fermi Secondario Puglio però Posso dirlo Se è vero Quello che fa Questo è la prima volta Che Riot Questo è un messaggio Di scusa Che probabilmente Non è diretto Non è diretto Mi fate un applauso A Paul Laser Forse il più grande Il più grande Rioter nella storia Per aver scritto Questo messaggio Questo è il più grande Rioter Rioter della storia A mani basse Per aver ammesso Queste cose È il più grande Rioter della storia Di League of Legends Aria alle emozioni viscerali E su questo Sono pienamente D'accordo Io stesso Sono caduto Spesso nella trappola Di argomentare A favore di Riot Perché qualcosa Era logico O sensato E spesso Erano scelte Logiche O sensate Se si parla Soltanto in termini Pragmatici Spoiler La vita Non è solo Pragmatismo Il videogioco Un intrattenimento Non deve essere Solo pragmatismo Deve essere divertente Deve intrattenere Devi essere contento Di giocarci Sinceramente Ci sono stati periodi Dove Non me ne poteva fregare Di meno Di giocare La League of Legends Grazie Lapo Bravo Lapo Vero? Fammi continuare il video Guarda Fammi continuare il video Che sono Era bruttissimo Però è vero Regà Ci sono certi periodi Totalmente morti In cui non succedeva nulla E non avevi motivo Per loggare E non era così Per i precedenti 10 Lapo Secondo te Perché Io vi faccio arrivare A quella che è la verità Perché secondo voi Riot Negli ultimi tre anni Non ha fatto niente Posso dirlo io Di nuovo Per l'ultima volta Così la finiamo League Grazie al covid Ha vissuto Un boom Di viewer Di soldi Di player Infinito Che ha raddoppiato il gioco I numeri del gioco E hanno guadagnato il triplo E non hanno più avuto voglia Di fare un cazzo Fine Che è quello che ho detto io Ma se io lo dico così Sono il figlio di puttana Cioè avete capito Può dire quello che vuoi Lapo Ma è come dico io E il punto è che io lo dico E non va bene Però è così Fine Ragazzi è così L'ha detto Lapo adesso L'ha detto Lapo L'ha detto Riot stessa Io sono a posto così ragazzi Io ho dimostrato Quello Quello che dovevo dimostrare Io ho vinto Io ho vinto Nel momento in cui Pull Laser Fa un tweet del genere Io ho vinto Ho vinto su tutto Non c'è nessuno che tenga A me hanno bannato dal gioco E non ho mai detto una cazzata È incredibile Io sono così Io ho vinto Mi reputo il vincitore Mi reputo di aver vinto Su Riot Games Ho vinto io Hai presente Hai presente Avete presente Walter White Quando uccide Gus Ho vinto io Sono io adesso I've won Yay Skyler I've won Ho vinto io Fine Questa è la fine di Riot Per me Questa è la fine È la fine di Riot Verso il Riot verso il Gister È finita Ehi Skyler Ho vinto io Ogni uno Due mesi Succedeva qualcosa Quindi vedere dichiarata Una priorità Così alta Dalla persona Che decide tutto Per quanto riguarda Lo sull'intrattenere Bisceralmente Il proprio pubblico Mi soddisfa E non poco E non vedo l'ora Di vedere che cazzo Si inventano Perché Quando puoi mettere da parte Per un attimo La logica E pensare Pianificare A cose che Soddisfano le persone Puoi davvero andare fuori Di matto Grazie Posso fare Sto zitto Ma hanno ragioni Hanno ragione Hanno ragioni Quello che sta dicendo L'Apio È quello che ha detto Pull Laser È vero Pull Laser Mi sta emozionando Pull Laser Mi sta emozionando Pull Laser Lo sto amando Pull Laser Il gioco per renderlo Più moderno Fare un client Nuovo da zero Un sistema di pass decente Un sistema di rank Che non tilti la gente Così libera D'altromente esistenziale Di chi non accetta Di essere una pippa al sugo Dopo undici anni Che gioca Ti sfondo di morte Ti sfondo Ti sfondo Ti spacco la faccia Ma che stai scherzando Questo non lo devi fare Questo non lo puoi fare Non puoi dire questo Questo non lo puoi dire Questo è quello che ti cogli Da tremila anni Non puoi farlo adesso Non puoi farlo ora Questo è il messaggio Più merdoso Che puoi mai lanciare Nella storia dei messaggi Perché è così falice Che è roba mia Che non ti può credere Neanche tua madre È incredibile Sta roba Cioè È l'apo Adesso Si è ribaltata La situazione Si è ribaltata Adesso è l'eroe Non l'hanno neanche bannato A questo Cioè ora l'apo Quando Rio Ti ha ammesso Quando Rio Ti ha ammesso Di sbaglio E ce l'ha Per raccogliere I teschi Ma che scherzi È il soldi È la gloria Ma che scherziamo Ma che scherzi È io che ho combattuto Uno contro miliardi Ma che stiamo dicendo Ma veramente facciamo Guarda che No non ce la faccio più Non tilti la gente Così mi libera D'altro mente esistenziale Di chi non accetta Di essere una pippa al sugo Dopo undici anni Che gioca Magari O sarebbe bello Però prima Questo era troppo Ora è qualcosa che Essendo visceralmente sensato È sul piatto Viene preso in considerazione Nella nuova visione per Raio Tutte queste sono discussioni Che piuttosto che dire Eh ma non è facile La risposta diventa Troviamo un modo per farlo Adesso Adesso Ora E quando tutta la community Riflammava Non si può fare Adesso ha senso Tutte queste sono discussioni Che piuttosto che dire Eh ma non è facile La risposta diventa Troviamo un modo per farlo Al posto di dire Eh non è facile Non ho voglia Chi se ne frega Troviamo un modo di Ragazzi al cazzo Muore il gioco Di Ok Che cazzo devo fare Nella nuova visione Non ho voglia Di risolvere i problemi È troppo difficile Che cazzo vuol dire Che vuol dire Oid Che vuol dire Lapo ci mette La vaccazza Ho appena detto No non ho voglia Di risolvere i problemi Nel solo Q Non è È troppo difficile E ora dicono No Dobbiamo trovare un modo Per risolvere Grazie al cazzo Grazie al cazzo Che devo dire Tutte queste sono discussioni Che piuttosto che dire Eh ma non è facile La risposta diventa Troviamo un modo per farlo Troviamo un modo E non è finito I player vogliono essere ascoltati E compresi I rioter vogliono sentirsi valutati E rispettati Voi iniziate a lavorare E noi E noi iniziamo a comprendere I rioter vogliono sentirsi valutati E rispettati Lavorate Cazzo Cazzo Devo dire Cosa vi devo dire a questi I rioter vogliono sentirsi valutati E compresi Lavorate E finalmente avete capito Che rispondere È troppo difficile È sbagliato E cazzo Vi devo dire ai rioter Bravi Non c'è stato niente per tre anni I rioter vogliono sentirsi Compresi Valutati Cazzo vi devo dire Cosa vi devo dire ai rioter Bravi Che non avete fatto niente Ora lavorate Vi diciamo bravi Cazzo 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 Devo dire I player votati E compresi I rioter vogliono sentirsi valutati E da ridere Mi viene da ridere Mamma mia la faccia Mi viene da ridere Realmente Cioè Ecco Ci voleva pullasero a dirlo È incredibile È incredibile Mi sembra veramente Di aver parlato Nel deserto Ero nel deserto così Con il mirino del mondo in testa E avevo ragione io Avevamo ragione noi È incredibile E quando riot lo ha ammesso Vengono fuori le persone A dire che era come dico io Ma con le parole loro È incredibile È incredibile Abbiamo vinto noi Torna un po' al topic di prima I player attualmente hanno una fiducia tendente al negativo Perché? Perché per tanto tempo Non sono state rispettate tante promesse E non c'è stato molto di concreto Su cui essere felici L'ho detto nel mio video Quando mi hanno bannato Riot non c'è stata Senti Ragazzi Ragazzi non respiro Ragazzi non respiro C'ho gli attacchi di panico Non respiro Non respiro Mi hanno bannato Ragazzi mi hanno bannato dal gioco Avevo la community più grande di tutti i tempi Avevo ragione io Che 4.000 persone in Italia Cazzo la gente se ne andava che mi dava del pazzo 4.000 persone in Italia C'è Tyler One che se ero americano Ne facevo 30.000 Siamo i più gra Siamo la community più Mald Veramente Ci hanno preso in giro ovunque E avevamo ragione noi Ci hanno flammato ovunque Ci hanno bannato E avevamo ragione noi E siamo ancora qua Scusa i player dal trattare di merda e Rioter Però serve davvero un cambio di lotta pesante Ed è per questo Che la prossima frase È quella che Mi carica più di tutto Vai Il 2024 Avrà qualcosa per ogni giocatore Il 2025 Cambierà League of Legends Per sempre Grazie E posso dire che c'ho il cazzo in mano? Sono le parole del game director di League of Legends Cioè Non è un developer a caso Che lavora in una sottosezione di LoL Dice Non è Wolf come era cane sciolto Perché come si chiamava Una roba figa Che non ha molto peso Queste parole vengono scritte Sapendo cosa ver Strano che dopo che Luca è il terremoto Rios è tirato i pantaloni Ragazzi Io Sono la persona Più felice Del mondo Io ho dimostrato E ho detto Questo video Voglio che faccia il giro A me non me ne frega un cazzo Quando uscirà il video su YouTube Deve essere il video più visto di sempre Deve essere il video più visto di sempre Dovete spammarlo a tutto il mondo A tutte le persone che conoscete Avevo ragione io Avevamo ragione noi Punto Punto Non c'è un seno Non c'è un ma Avevamo ragione Noi Noi Dal minuto Uno Sarà annunciato il 9 gennaio 2024 Quando ci sarà la streaming di inizio anno Con tutti i contenuti del caso E qua mi trovo un po' in difficoltà Perché non so cosa immaginarmi Cioè Cos'è che potrebbe cambiare League of Legends per sempre Cioè prima Il Magistero smannato Ma ho elencato alcune delle cose che potrebbero aggiornare Per rendere League più moderno Ma mi viene davvero a pensare che siano impazziti Al punto che hanno deciso di fare qualcosa di Persino Chiusura Nel 2025 Chiude League of Legends Pulaio scrive Grazie per i vostri soldi Sarebbe il più grande Rioter di sempre La roba più epica nella storia Se Pulaio fa Ragazzi Il cambiamento sta arrivando Chiudiamo League Grazie per i vostri soldi imbecilli Sarebbe incredibile Il client sì Bello Ma non basta L'engine di gioco E non cambierebbe per sempre LOL Sarebbe sempre LOL Ma più moderno Anche i sottosistemi presenti nel gioco Le Ranked Il Pass Gli RP L'Honor L'Essenza La modalità di gioco alternative Cioè Sono cose che aggiungono a LOL Ma non lo cambiano per sempre Poi ti ho cominciato a pensare 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 Sapete Avevo la febbre sti giorni E ci sono più persone Che stanno entrando a far parte di un team Dentro Riot Che lavorerà qualcosa per League of Legends Che non è ancora stato annunciato Quindi un contenuto nuovo di Zecca Dubito sia un contenuto estetico Tipo skin per la mappa Indovino Skin per le armi Skin per il pezzettino di Destro della spalla Skin per la gamba Skin per l'infradito Skin per l'anello di lux Di merda Indovino Indovino Quindi deve avere a che fare Per forza di cose con il gameplay Quindi mi trovo un po' disarmato Cioè Cosa fai Sai che invece è armato Io E sto per partire Con l'aereoplano Per andare in America E sparare al cielo Perché avevo ragione E mi avete bannato dal gioco E che creino un'avventura narrativa Dentro a League of Legends Cioè Immaginatevela così Giocare a LOL Avere delle piccole storie Che escono periodicamente Che puoi giocare con i campioni League of Legends E dei potenziamenti simili A quelli da modalità arena Tipo Io gioco Horn Dici Ok Adesso questo knock up Invece di durare 3 secondi Ne dura 9 Contro i minion piccoli E 6 contro i minion grandi Cioè Non dare Non dare Lapo Non diventare mai Una persona che lavorerà per Riot Riguardo alle patch Knock up di 9 secondi Di Horn Stai buono Lapo Rimani nel tuo Rimani a gestire Riot Italia Rimani sul tuo Lapo per favore Con gli E6 contro i minion grandi Cioè Potenziamenti pensati E ragionati Per migliorare come funziona Il tuo campione preferito In questa piccola Non dare idee Che poi Pullaz Interessante È questo che vuole il player Perché Lapo Lapo è Riot Italia Questo è quello che vuole il player Poi ti mette il knock up di Horn A 10 secondi Avventura Buono Cioè Quanto sarebbe figa Una cosa del genere E darebbe un modo a League of Legends Di avere un po' di narrativa Mentre aspettiamo l'MMO Sincero è una delle poche cose Che mi è venute in mente Che cambierebbe LOL Completamente Che non siano semplici upgrade A ciò che è già presente E questo mi gasa un casino Perché sono sicuro Che ci saranno altre mille idee possibili E non vedo l'ora Di scoprirlo insieme Il 9 gennaio Con la live streaming di Riot L'IPE a mille Signore e signori Questo è quanto per questo video E noi ci vediamo Al prossimo Mi fate Devo fare un annuncio È consumo di Vi faccio io un annuncio La Pelata di Lapo Sta aumentando È previsto un trapianto in Turchia Entro 5 anni Non è spiacere Che mi faccio carico Di portare Una grave notizia Per le orecchie Della community League of Legends Per tanti anni Siamo stati Cosparsi di regali Da parte di Twitch Prime Ma questa generosità Viene meno Un giorno oscuro Per la razza umana Sapendo Che dopo il mese Di marzo 2024 Non ci saranno Più casse mensili Prime Game Ecco il cambiamento Di pull laser Per il 2024 Che danno È vero C'è il cambiamento Dobbiamo sentire Di più giocatori Io ragazzi Vi aggiorno Per quanto riguarda La roba mia Vi aggiorno ragazzi Per quanto riguarda La roba mia Stamattina ho parlato Con Paolo C'è sul ballo Una Un attimo Che mi ha scritto Io ragazzi C'ho un progetto In ballo Abbastanza interessante Sono progetti Che però Non sono attuabili Finché non parlo Con Con Rio d'Italia Con Rio d'Italia Vi confermo Ora che siamo di più Perché non tutti Guardano i miei live Che dovrò parlarci Perché ragazzi È successa Una roba Incredibile E clamorosa Parlando Con alcuni creator Ho scoperto Ragazzi Che è una cosa Straordinaria Non pensavo Ho scoperto Che alcuni creator Non hanno mai visto Le mie live Per più di Durata di una clip O più di Tre minuti Quattro Quindi pensavano Di essere flammati A spam Dal sottoscritto Senza aver mai visto Probabilmente una live Grazie al cazzo Ragazzi Se io mando Una mia clip A un tizio Dove io Se uno di voi Manda una clip Mia A un tizio Che lo sto Permaflammando E lui non mi guarda Pensa che io sono Il peggior figlio Di troia del mondo Grazie al cazzo Poi Gli ho dato L'incredibile Mentre ci parlavo Ho detto L'incredibile Mi avete mai visto Per più di dieci minuti Non è Paolo Questo Non è Paolo E mi fa È sempre così Con loro Mi fanno È sempre così È sempre così Bene Dopo aver parlato In privato Con alcuni creator Si è arrivato A fixare Molte situazioni Molte cose Sono state fixate E io a quanto pare Ho buoni rapporti Con tutti È incredibile È incredibile Ma vero È incredibile Ma vero Tutti gli streamer italiani Di League Non ce l'hanno con me Straordinario Chi l'avrebbe mai detto Forse pensava qualcuno Che io avesse Una brutta reputazione Tra le persone In realtà ragazzi Non è così In realtà ragazzi Gli altri persone Mi vogliono bene Ragazzi A me la gente Mi ama Io pensavo Non sto scherzando A me la gente Mi ama A parte i due e tre Che vabbè Mi hanno clipato qua E non mi hanno mai guardato La gente mi ama Io cerco ogni volta Di incendiare E la gente mi ama In modo infinito Io non ci credo Io non riesco a capire Il supporto O il mondo funziona Al contrario O il mondo funziona Io ti amo Quando Noi no Io ti amo Vedete Voi mi scrivete Stava qua Ma ragazzi Stranamente La gente mi ama Proprio quando I viewers Stanno facendo così Ora sono diventato Indispensabile Ora Ora sono diventato La persona più amata Del mondo È incredibile Come funziona il mondo È incredibile Come funziona Ora sono completamente Amato da tutti Gli streamer italiani Ora Gli streamer italiani Addirittura Ho saputo Che molto probabilmente Alcuni di loro Nel privato Hanno parlato bene Di me Con Riot Incredibile E grazie a loro Quindi li ringrazio Perché altrimenti Non sarebbe arrivato C'ho questa incredibile Chicca per voi È grazie agli streamer Italiani di League È grazie agli streamer Italiani di League Che grazie al calo Di viewers Che grazie al ban Di Riot Games Quindi Grazie a Riot Games Riot Games Mi parlerà In privato Straordinario Grazie al ban Che Riot ha fatto Io Posso parlare Con loro È incredibile Vedete come funziona La storia E signori Arriverà Il famoso Confronto 1v1 Arriverà Il famoso Confronto 1v1 In privato Entro Attenzione ragazzi La chicca è incredibile Entro Fine Gennaio Doveva essere Entro Doveva essere Questo mese Però ho deciso Di lasciare le vacanze Natalizie Ma Arriverà Dopo Agosto Settembre Agosto Settembre Ottobre Novembre Quattro mesi e mezzo Quattro mesi e mezzo Arriverà Finalmente Un 1v1 One on one In privato Con Poi non so se Me ne invitano sette Non mi interessa Un 1v1 On one on riot Per parlare Della situazione E di come si evolverà La faccenda Da ora in avanti Quindi Avrete Novità Riguardanti Il mio ban Sul mio canale Twitch Nel prossimo mese Quindi se volete Finalmente Iniziare A sognare Lo diceva Pull Laser Dobbiamo smettere Di perfezionare Dobbiamo muoverci Dobbiamo sognare Se avete Se avete mai sognato Mio's ban C'è un 1% Di possibilità 5% Non è mai successo Neanche per Tyler One C'è un 5% Di possibilità Che accada Ma Se non dovesse accadere C'è un 95% Di possibilità Che comunque Non è Riot Bene Perché Abbiamo appena visto Un video Che è Incommentabile Non si può commentare Cioè Abbiamo appena visto Il video di Lapo Che ci ha chiarificato Tutto Ci ha chiarito tutto La parte offesa Sicuramente Non è loro E io E io Accetto Il confronto Con loro Mi fate un applauso Sono la parte offesa E io accetto Di parlarli Avete presente Ragazzi La figura Kira così Con la mela dietro All'inizio Della sigla di Death Note Io accetto Di parlare con loro Sono così Sono Sono la divinità ancestrale Riot ha chiesto scusa Tramite un video Riot America Ora parlerò direttamente Con loro E vedremo E vi aggiornerò immediatamente Qualsiasi sia Il tipo di risposta Che sia negativa Che sia positiva Che sia un Vediamo Che sia una puttanata Vi aggiornerò Quello che mi hanno detto Molte persone Non Riot Mi hanno detto Guarda che ti sbannano Sicuramente ad agosto È impossibile Che non ti sbannano E io ci credo Io sta roba qua ci credo Ma Quando c'è il gister di mezzo Ragazzi C'è sempre qualcosa di nuovo C'è sempre qualcosa Che non è mai successo prima Tyler One L'hanno sbannato dopo anni Io non sono Tyler One Io non aspetto anni Io non aspetto neanche un anno Io aspetto molto prima Molto meno Questa signore È la novità Questo è il futuro Di League of Legends Io che vengo sbannato E che porto la community italiana Dove non è mai stata prima Ma dio boia Questo è il futuro di League Non è 2025 League of Legends 2 La novità del 2024 È il ritorno del gister Questa è l'unica verità Ora signori La parentesi La parentesi League of Legends L'ho già fatto Tra l'altro l'ho già fatto Nel 2023 Perché ho portato 10k persone Da bannato Insomma Che Ho detto un applauso a me ragazzi Ma la verità Posso dirvi qual è la verità La verità ragazzi È che se ho fatto 10.000 persone Sicuramente Non è merito mio Ma è merito vostro Perché decidete voi Di cliccare sul mio cazzo di canale Quindi se Riot E League of Legends Italia ha avuto un record Per quanto riguarda I viewers italiani A guardare un torneo Pareggiato e superato Il mio record italiano Per quanto riguarda La finale Del torneo italiano Di League of Legends Di PG eSport Dove io ero coach del team L'abbiamo superato Avete di nuovo In fronte una barriera Stai zitto Le cagole Ma andate a fare In culo mostri Avete di nuovo Fatto la storia dell'Italia È questa la verità È così che funziona È così che funziona Perché è questa la community italiana È la community che è così Non è una community tossica È una community che si può unire Solo Che non l'hanno mai capito Fino Al messaggio A quanto pare Di Riot Pupu Laser Che ha detto Le persone tossiche Ci tengono al game Ehi È il motivo Per cui faccio 10.000 persone Quando parlo di League La gente ci tiene Perché se la gente Odiasse League Non ci giocherebbe neanche La gente è frustrata di League Perché non avete lavorato Come avete detto voi Nel messaggio Negli ultimi tre anni Quindi signori Terminiamo qua E io sono contento Di non avervi deluso E di aver sempre detto La verità Perché c'è stato Un millisecondo Nella mia vita Dove ho detto Quando mi hanno bannato Ho detto Forse ho sbagliato E sapete cosa È stato il mio primo errore In tre anni e mezzo Che parlo Da quando è che stremo In tre anni e mezzo Quello è stato il mio primo errore Ma ero fuori live Ero fuori live